Che bella ragazza! Quella è un diavolo scatenato. Meretricio? No, è una ragazza un po' ardita. Sovversiva? No, ma forse è la troppa miseria metterle il diavolo in corpo. Hai visto la risatella che ha fatto il maresciale alla bersagliera? Eh? A sto maresciale gli piace pazziare. Qua non si può fare niente, qua non si può guardare una donna che lo sa tutto il paese. Eh, maresciale quasi deve essere volpi sovraffili. Però c'è un vantaggio che la donna di paese capiscono a boh. Basta un'occhiata, un segno. Ah! E si è bagnato, mi dispiace. Mezzo bagno, mi ha fatto quasi bello. Allo maresciale ci piace tanto la bersagliera. Ora a me piacesse. A te. E che è sta? E' quello che dicono tutti i paesi! E che dicono tutti i paesi! E' quello che dicono tutti i paesi! C'è maresciale? Chi è? C'è maresciale? Che c'è? Maresciale? Che c'è? Ma dove siete? Ma che c'è? C'è maresciale? E' la giulacce da quella. Beh, portateli in camera di sicurezza, diamo. Tu non mi vorresti a... Ma come? Ma vuoi capire o no? Che lo maresciale tiene un'invenzione? E' un'invenzione di 5.000 lire, tiene? Bella intenzione, tiene? Che? Quel porco. Non dire sta brutta parola! Che pure uno porco può diventare marito? La signora Stelluti viene non soltanto per rivedere suo figlio, ma per conoscere la bersagliera. Desidera prendere a servizio? No! Suo figlio vuole sposare. Ma anche per il tuo figlio vuole sposare, Grazie a tutti.